Buonasera a tutti, stasera finalmente video spesa, questo è il primo video spesa che porto sul canale quindi se sarò un po' impacciato, imbranata è tutto nella norma Allora siamo andati da Conad che c'era la super settimana che dovrebbe terminare domani e tante altre offerte che c'erano già di base al di fuori della super settimana Conad quindi c'era il sottocosto, abbiamo trovato tantissime offerte e ovviamente abbiamo preso anche roba non in offerta perché noi sappiamo individuare anche quella super cara come prezzi però ovviamente ragazzi, roba buona, la qualità si paga, quindi amen e adesso nulla, procediamo con il video spesa e vi farò vedere tutti i prodotti che abbiamo comprato Allora, noi siamo andati a spendere 98,80€ e nel momento in cui mi dovessi ricordare delle offerte ve le dirò perché non penso di ricordarmi tutti i prezzi Allora, siamo andati a prendere due vasetti di yogurt mio e due di yogurt granarolo come vedete bimbi, perché questi qui li mangia mia figlia Melanie e questo qui 99 centesimi, di solito è il prezzo fisso che hanno questi yogurt e questo 1,65€ perché purtroppo non erano in offerta In realtà li mangia anche tu quando li so travi a tua figlia Poi, sempre yogurt, ho preso questi quattro yogurt io amo i mirtilli e di piteno al caffè che sono molto buoni anche questi qui purtroppo non erano in offerta però yogurt buonissimi e quindi pazienza ragazzi chi se ne frega dall'offerta in questo caso va benissimo così poi abbiamo preso un po' di carne iniziamo con il macinato di bovino questo qui in offerta ha 3,12€ e sono 528g poi una confezione formato convenienza di petti di pollo 6,15€ poi abbiamo trovato questi hamburger di tacchino che a vederli diciamo sembrano buoni quindi ci attiravano è la prima volta che li assaggiamo in realtà e sono costati soltanto 1,99€ poi due maxi hamburger di scottona questi qui sono in offerta c'è mio marito che corre per casa scusate non so perché ma va bene questi qui sono in offerta speciale sono buonissimi fra l'altro li abbiamo provati qualche giorno fa e abbiamo deciso di riprenderli e costano 2,21€ ragazzi per quella che è la qualità di questa carne e per il mega hamburger che vi viene fuori convengono il doppio veramente poi un pacco di kinderfett al latte questi qui erano in offerta a 1€ ti ricordi? no però convenivano un casino 1€ è qualcosa comunque c'era un'offerta di oltre il 30% adesso non ricordo ma questi qui ovviamente da premettere che li sbrana tutti mia figlia evita qualche commento per cortesia si vabbè a chi non piacciono i kinderfett all'arte lo scriveste nei commenti a chi non piacciono allora poi ho preso 4 Müller Mix questi qui due per mio marito e due per me io amo questa mousse di bianco con granella di pistazzi ok e che è successo? vabbè mio figlio Michael che è impazzito per la fame non ci vedeva più dalla fame allora in tutto ciò dicevo ho preso questi 4 Müller Mix questi in particolare ragazzi sono buonissimi se non li avete assaggiati assaggiateli che costano 99 centesimi l'uno purtroppo non erano in offerta altrimenti avrei svaliggiato il frigo questo è ovvio poi ho preso due buste di triarielli questi qui sono buonissimi ragazzi io li preparo con con la salsiccia e vi farò presto la video ricetta e sono il top davvero questi qui non erano neanche in offerta e sono costati 2 euro e 80 se non erro al pacco sono 600 grammi di triarielli a busta poi una busta di spinaci questi qui ragazzi ho la linea Orogel o meglio il marchio Orogel lo prediligo perché sono ottimi infatti per le mie ricette sono perfetti poi due confezioni di prosciutto cotto rovagnati questo qui era in offerta costava meno di 2 euro adesso non ricordo il prezzo preciso ma come vedete è molto conveniente perché di base costa 3 euro e 99 poi due confezioni da 100 grammi luna di pancetta affumicata della Negroni questa è buonissima abbiamo preso una vaschetta di queste ciliegine campotenese buonissime queste qui non erano in offerta però considerando che sono delle mozzarella ottime l'ho prese comunque e sempre rimanendo in tema mozzarella abbiamo scelto queste qui Santa Lucia il tris di mozzarella che sono costate 3 euro e 20 tra l'altro in offerta poi abbiamo preso questa confezione da 4 panini 1 euro e 36 questi qui li fanno al Conad e sono buonissimi una vaschetta da 500 grammi di pomodorini su questo qui c'era l'offerta solo che non ricordo non ricordo il prezzo purtroppo e poi abbiamo preso un casco di banane queste qui sono costate 2 euro e 48 noi usiamo queste sambiettine qui o di tanto in tanto quelle della Napisan se non erro per igienizzare la spesa e molte volte velocemente le superfici magari se non si ha tempo e devo dire che ci troviamo molto bene noi praticamente all'inizio della pandemia abbiamo iniziato a maggior ragione a igienizzare la spesa non che prima insomma non ce ne fosse bisogno però è un'accortezza in più che abbiamo acquisito da più di un anno quindi ve le consigliamo è sempre meglio è sempre meglio igienizzare tutto di sicuro quindi sì nel frattempo c'è Michael in questo fondo continuiamo con il nostro video spesa abbiamo preso la camomilla della Sogni d'Oro questa qui era in offerta 1 euro e 20 di solito abbiamo sempre comprato la Bonomelli quindi andremo ad assaggiarla vediamo un po' come ci troviamo poi abbiamo preso le marmellate monodose e due confezioni alla fragola due alla ciliegia e uno ai frutti di bosco queste qui stile albergo sono comodissime anche perché di solito usando il grande barattolo iniziando lo resta in frigo troppo tempo quindi queste sono stracomode e non costano molto se non erro o 90 o 99 centesimi a confezione o ti ricordi tu? sì 99 poco o meno di un euro comunque queste sono ottime per la colazione poi abbiamo preso due bottiglie di succo conad che era in offerta abbiamo scelto questo gusto qui alla pera che piace molto a mio marito sì e ti ricordi il prezzo per caso? no no non lo ricordo perfetto poi abbiamo preso una bottiglia di succo yoga che questa qui la preferisco io sia il gusto sia il marchio perché yoga è da quando ero bambina che lo bevo è buonissimo poi per me ho preso questo zucchero di canna chiaro perché ultimamente sto cercando di zuccherare tutte le bevande che sia ginseng camomilla tè tisane con lo zucchero di canna perché è molto più sano poi è buono lo stesso e questo qui non era in offerta e se non erro è costato 2,75 euro poi M&M's questi qui invece erano in offerta e ovviamente il formato piccolo 200 grammi l'uno sono buonissimi ovviamente mio marito ha voluto abusare in un certo senso che di solito si non ne mangiamo molti quindi due pacchi sono praticamente abuso per noi poi un mega pacco di nascondini questi qui non erano in offerta e sono veramente cioè costano troppo sono biscotti buonissimi è tutto quello che volete però sono 600 grammi esatto e costano quasi 4 euro 3,55 euro quindi sono una rapina però bisogna anche concedersi delle sfiziosità di frittà quindi ci sta chi se ne frega del prezzo poi abbiamo preso mezzo chilo di pane semi integrale questo qui costato 1,46 euro poi una bottiglia di latte di mill senza lattosio alta digeribilità questo è buonissimo è il più buono tra i tre perché è quello che ha un po' più di sapore una sola bottiglia perché ovviamente hanno svaleggiato il conad quindi va bene così fra l'altro abbiamo altro latte in casa per cui non ne necessitavamo più di tanto poi una bottiglia di aceto bianco questo aceto qui io lo uso molto per pulire sia a casa che lo sterilizzatore dei bambini e anche il bollitore con cui vado a bollire il latte di Michael poi magari vi farò un video insomma specializzato su questo perché sia l'aceto che il bicarbonato sono ottimi per la pulizia di casa e oggetti questo qui se non è costato sugli 80-90 centesimi prezzo fisso da conad sembra conveniente poi questo maxipacco di fette biscottate integrali della muleno bianco queste qui in offerta 1,19 euro non le avevo neanche notate in realtà stavo prendendo le Colussi però per quello che erano semplici fette biscottate bianche poi ho visto queste qua integrali che sono anche più sane e ho preferito prendere queste queste ottime con le marmellate che avete visto prima poi due pacchi di pane in cassetta questo qui pane morbido integrale conad questo qui prezzo fisso se non erro sui 75 centesimi mentre questo qui era in offerta ad 80 centesimi e con questo qui vengono dei toast spaziali magari poi vi farò la ricetta o meglio la videoricetta poi tovaglioli scottex che di cui mi sono pentita di averli presi perché cioè ragazzi io non ho non ho mai visto una carta vetrata un pacco di tovaglioli che viene toccato di lato e invece di tovaglioli sembra ci sia dentro carta vetrata ci sono sono durissimi io ho paura a pulirmi le labbra ma vabbè me ne sono accorta solo adesso quindi valuterò questi tovaglioli poi due confezioni di uova conad queste qui abbiamo preso un pacco medio un pacco di uova grandi queste qui sono buonissime ottime per frittate per tutte le ricette rispetto a molte altre uova comprate sono molto saporite sono molto più buone io noto una certa differenza nel sapore tant'è che ho voluto prenderne due confezioni queste qui non erano in offerta però il prezzo fisso è molto basso e per la qualità che hanno direi che ottimo poi come ultimi prodotti ci sono questi teli multiuso e ovviamente monouso usegetta e questo pacco di pad di cotone io mi sono trovata benissimo con la linea conad baby ovviamente non con tutto vi farò poi un video a parte in particolare sui prodotti top per quanto riguarda l'igiene dei neonati e vi parlerò dei prodotti con cui mi sono trovata benissimo sotto vari aspetti insomma vedrete vari prodotti poi vi farò vedere e questi qui allora i pad di cotone non erano in offerta e sono costati 1 euro 85 mentre i teli multiuso sono costati 2 euro 85 questi sono veramente ottimi il cotone è buono sono delicati e poi i teli multiuso li consiglio perché nei casi di emergenza sono ottimi allora ragazzi il video di spese è finito però ci sono due chicche che giustamente ha trovato mio marito mi ha voluto fare la sorpresa all'interno del conad me l'ha detto fra l'altro me l'ha fatti vedere lì prima di pagare non l'ho visti dopo e sono questi qui due cappelli uno della juve e uno dell'inter ovviamente io tifo inter so che la maggior parte preferisce i uve ma a me non importa e ah ecco ci sono dentro anche delle barrette di cioccolato e adesso vi faremo vedere come ci stanno li proveremo in diretta ah allora dentro ci sono quattro barrette di cioccolato e il cappello sperando che mi entri perché ok che taglia unica però come dicevo in macchina a mio marito non è che adesso tutte le taglie uniche vanno bene sulla testa di tutti sono molto belle si sono molto belle io ho preso già il cappello che è questo qui molto bello però come l'avvento sei molto più bello certo vediamo come stanno e le barrette che sono esattamente queste qui ah due fondente e due cioccolato al latte e come è bello ti sta bene diciamo si devo vedere come sta a me il barretto vediamo sembrerò scappata di casa no no pensavo peggio no sì ok bene direi che questo video spesa è stato concluso alla grande quindi con queste chicche dell'inter e della juve ovviamente forza inter amala è questo che devono vederti fare solo questo dai concludi allora come vi dicevo noi ci rivediamo alla prossima con un altro video spesa tanti altri video con tanti altri contenuti anche con lui che è già un contenuto di suo il mio contenuto quindi e quindi nulla ragazzi io spero che questo video spesa vi sia piaciuto poi abbiamo avuto anche l'ospite speciale sì e iscrivetevi ai canali di entrambi prima il mio poi pure al suo poverino vi lascerò qui nell'info box giù il suo link grazie mettete tanti mi piace commentate e ci vediamo alla prossima ci vediamo alla prossima con un altro video